buona ventura mamma ma tu mi abbagli sempre sì Mosi perché sei nero non si vede niente faccio dei video ma non si vede un tubo e allora ti devo abbagliare qui fanno a turno per stare sopra di me affettuosi tutti e due tantissimo ognuno a modo suo ma mi amano veramente una soddisfazione una gratitudine per questi due esserini impegnativi però veramente sono ricambiata tantissimo e han fatto gol Mosini hai visto? han fatto gol intanto che noi facevamo il video allora porti bene Mosini porta bene questo Mosini evviva evviva Mosi tesoro tesorino bello Mosini tanto carino sì per singolo per sbloccare una partita che fino adesso non avrà regalato particolari emozioni fate le mani lo vedete